Musica Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione Apertura alla croce Stamattina sono ripartite le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino Le condizioni meteo stanno permettendo agli elicotteri di volare Oggi è arrivato anche il Megasonar dalla Valle d'Aosta ed è previsto anche l'arrivo dello scavatore da Uindoli Riprese questa mattina le ricerche di Tonino, Gian Mauro, Gian Marco e Valeria I quattro escursionisti avezzanesi dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino Circa 100 gli uomini di soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e alpini Che stanno battendo la zona della valanga che con ogni probabilità ha inghiottito i quattro Una valanga estesa a due chilometri con uno strato di neve compatta, spesso dai 9 ai 12 metri Che ha messo a dura prova anche il fiuto dei cani molecolari Oggi però, complici anche le buone condizioni meteo, si spera possa essere il giorno del ritrovamento E infatti è arrivato al campo base di forme di massadalve un potente sonar dalla Valle d'Aosta Si tratta di un'antenna di 80 cm di diametro, mai utilizzata prima in Abruzzo Che è montata a un elicottero in grado di captare metalli anche a profondità importanti Obiettivo quello di trovare traccia di chiavi, cellulari, rinforzi degli indumenti d'alpinisti Qualsiasi oggetto che i dispersi possano avere con sé E oggi dovrebbe arrivare da Ovindoli anche un abbattipista scavatore Con un elicottero adatto ai grandi carichi Che sarà utilizzato per la delicata fase dello smassamento della neve Famiglieri e soccorritori non si arrendono e sperano ancora nel miracolo Quello di ritrovare vivi i quattro escursionisti ha quasi una settimana da quando non se ne hanno più notizie E' ufficiale, la conferma è arrivata dal Ministro Speranza direttamente al Governatore Marsilio Da lunedì l'Abruzzo sarà nuovamente in zona gialla Non ci saranno più in Italia regioni rosse Ecco quali saranno le regole per la prossima settimana Un fine settimana di zona arancione è da lunedì il tanto atteso ritorno in zona gialla In base a quanto stabilito ieri dalla cabina di regia ministeriale Scomparirà il rosso dalla cartina della penisola Tutte le regioni saranno nel livello più basso di restrizioni Fatta eccezione per Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige Che rimarranno arancioni La ricolorazione sarà in vigore da lunedì Giorno a partire dal quale in Abruzzo sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente tra un comune e l'altro Resterà però vietato oltrepassare i confini regionali Se non per motivi di salute, lavoro o necessità Sarà consentito fare visita a parenti o amici spostandosi verso un'abitazione privata Ma solo una volta al giorno e con un limite di due persone Oltre agli inquilini dell'abitazione dove ci si sta recando Fatta eccezione per le under 14 e disabili Ad esercizi nei centri commerciali e mercati Sarà imposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi Regola questa che non vale per alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole Da lunedì si potrà tornare a visitare musei e mostre Ma non nei giorni festivi Mentre palestre, piscine e centri benessere rimarranno chiusi E poi ci si potrà sedere di nuovo al tavolo di un ristorante o al bancone di un bar Ma solo fino alle 18 Dalle 18 alle 22 è consentito l'asporto Ma solo per chi fa cucina e quindi non per i bar Gli orari di chiusura sono imposti perché rimane il coprifuoco Dalle 22 alle 5 del mattino Misura che resterà in vigore ad Interim Lo stato d'emergenza nazionale che consente ai governanti i poteri straordinari È stato infatti prorogato fino al 30 aprile Quella del coprifuoco è sicuramente la limitazione della libertà Che è meno comprensibile dall'opinione pubblica Legittimo infatti il dubbio di baristi e ristoratori Che tra difficoltà economiche, scarsi aiuti e aperture a singhiozzo Si chiedono come mai al calare del sole Il servizio che loro offrono diventa pericoloso e a rischio contagio Mentre negli orari diurni quelle precauzioni, imposte e adottate Consentirebbero invece di lavorare in sicurezza Chi esce di casa oltre l'orario consentito Col favore delle tenebre e senza un motivo ritenuto valido Rischia una multa dai 400 ai 1000 euro E apriamo così la pagina dedicata alla sanità Sono arrivati i primi risultati positivi riguardo l'assunzione di nuovo personale Presso l'ospedale San Massimo di Penne Ad annunciarlo il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli Che a febbraio in consiglio regionale Chiederà anche delucidazioni all'assessore Veri Sulla corretta funzionalità del nostro comio vestino Stefano Recanati Una interpellanza al presidente della giunta regionale L'assessore alla sanità Nicoletta Veri è stata avanzata a seguito della visita Ispettiva presso l'ospedale San Massimo di Penne Dal consigliere regionale PD Antonio Blasioli L'intervento che sarà discusso a metà febbraio Riguarderà la corretta funzionalità sia dal punto di vista della strumentazione Sia per quanto riguarda l'arrivo di nuove figure professionali sanitarie Intanto nei giorni scorsi sul sito della ASL competente Sono stati pubblicati i primi atti per il reclutamento di alcune figure indispensabili Per far fronte alla carenza di personale Intanto soddisfatti perché abbiamo ottenuto una sorta di effetto Harry Potter Perché dopo la nostra visita ispettiva E dopo il deposito di questa interpellanza sul San Massimo di Penne Nove delibere sono state pubblicate sul sito della ASL Delibere alcune delle quali erano state già programmate un anno fa Lo si legge nel testo della delibera E quindi non gli era stato assolutamente dato seguito Sono delibere che risolvono alcune delle criticità Ma non tutte le criticità all'età Quindi siamo soddisfatti per il lavoro fatto Che è stato un lavoro costruttivo E così deve essere la politica che si interessa a un problema serio Come quello della sanità del territorio vestino Ma nello stesso tempo siamo indotti a non abbassare assolutamente la guardia Mi vorremmo sottolineare che questa nostra interpellanza Che descrive molto bene la realtà esistente nel San Massimo È il frutto di un costante colloquio che noi abbiamo Come circolo e anche come gruppo consigliare regionale Con i medici e con tutti coloro che lavorano nel San Massimo Infatti se siamo soddisfatti che comunque questa interpellanza sta portando i suoi primi frutti Allo stesso tempo ci chiediamo perché si è accumulato tutto questo ritardo da parte della regione sul San Massimo Ricordiamo che sono state fatte tantissime promesse proprio sull'ospedale Vestino Ma perché a queste parole non sono eseguiti i fatti? Infatti questo noi non sappiamo se sia dovuto a menefreghismo o a sciatteria Ma temiamo che ci sia anche un disegno politico che voglia depotenziare il nostro ospedale E anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari Torna a parlare della sanità abruzzese e di alcune criticità rilevate in questo periodo di pandemia Paolo Rezzetti Consigliere Pettinari, lei oggi torna a parlare di sanità, un discorso articolato su alcune problematiche Che lei sottolinea da tempo e con forza Sì, abbiamo raccolto una serie di criticità da parte dei cittadini abruzzesi Dei veri e propri gridi d'allarme Diciamo così, intanto dalle madri padri abruzzesi che ci denunciano appunto Che non possono iscrivere i propri figli ai pediatri Perché c'è una carenza cronica appunto di pediatri E ci sono troppi pazienti, non hanno pubblicato le cosiddette nuove carenze Non hanno istituito le nuove sedi Quindi mancano pediatri, ci sono tanti bambini che hanno necessità Regione Abruzzo ha una grande responsabilità di risolvere questo problema Ho fatto una grande interlocuzione, ancora risolvono il problema Si faccia presto, ogni bambino, ogni figlio della nostra terra Deve avere un'assistenza sanitaria pediatrica Addirittura abbiamo scoperto che ci sono pediatri che hanno superato di gran lunga E' il massimale consentito da legge, altri che non riescono ad arrivare alla soglia E questa è una disparità di trattamento inqualificabile Abbiamo raccolto anche il grido dell'allarme dei ragazzi universitari Dell'Università di Medicina di Chieti e dell'Aquila Che non essendo stati vaccinati non possono fare i tirocini nei reparti E quindi non possono fare gli esami e non possono laurearsi Pur essendo loro assimilabili agli operatori sanitari E quindi ne avremmo tanto bisogno, si faccia presto come stanno facendo altre regioni Virtuose, si faccia un piano di vaccinazione con priorità a questi nostri ragazzi Abbiamo rilevato una criticità nella piattaforma informatica per l'adesione ai vaccini Degli ultraottentenni nei giorni scorsi Questa piattaforma non ha sempre funzionato, ha creato disagi Non tutti hanno potuto aderire Chiediamo anche con forza come verrà gestita questa mole di informazioni C'è il Regione Abruzzo adesso che farà a seguito delle adesioni Stirerà una graduatoria, chi saranno i primi vaccinati, chi saranno gli altri Ci saranno dei criteri, non sappiamo nulla I punti di erogazione dei vaccini sembrano essere molto pochi Ne vorremmo anche di più Abbiamo rilevato quel focolaio nel CUP di Pescara Un focolaio dove sono stati investiti diversi operatori del reparto E poi al danno la beffa perché scopriamo che nel CUP di Pescara il cittadino si deve recare sul posto per pagare Non esiste il pagamento online Questa è una cosa che non esiste Non può andare avanti e devono risolverlo Immediatamente 200.000 visite di specialistica ambulatoriale sospese in Abruzzo a causa Covid Non sono state riposizionate Ci sono oncologici, malati cardiovascolari che hanno problemi serissimi Devono fare subito di più perché le persone non possono ammalarsi a causa di visite che non vengono riprogrammate Concludiamo con l'ospedale di Penne Sono state di fatto portate da 40 a 20 posti letti o area medica Da 11 medici a 4 medici Un depotenziamento e declassamento vergognoso Mancano i servizi E questa è una situazione Nonostante avevano promesso di riclassificare l'ospedale in ospedale di base Sede di Prozio Soccorso L'ospedale sta letteralmente morendo Torniamo ora sulla polemica riguardo la salvaguardia dei presidi sanitari Tiatini Il centro-sinistra e i pentastellati hanno infatti richiesto un consiglio comunale straordinario Quali sono i motivi per cui chiedete un consiglio comunale straordinario? Chiedi ha sempre rappresentato un'eccellenza nel panorama sanitario regionale Abbiamo sempre rappresentato la sanità in maniera eccellente I cittadini della nostra città hanno sempre avuto servizi di grande qualità Sia all'interno dell'ospedale sia nell'assistenza extra ospedaliera territoriale Adesso siamo preoccupati che questa qualità sta un po' diminuendo per vari motivi Che ci sono alcuni servizi che potrebbero essere spostati dall'ospedale cricizzato di Codelare Che ricordiamo che è un ospedale universitario Presso altre strutture limitriche del territorio regionale E quindi noi con questo consiglio comunale lanciamo un grido d'allarme Per poter evitare questa espoliazione Che va a ricadere sulla qualità dei servizi sanitari della città di Chiedi Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Noi ci rivolgiamo alla regione certamente perché è l'organismo di organizzazione sanitaria sul territorio Noi vogliamo che la sanità di Chiedi rimanga una sanità di eccellenza Che i reparti non perdono la loro forza di assistenza per i cittadini di Chiedi E per i cittadini delle zone limitrofe Ecco vogliamo che la città di Chiedi rimanga centrale nell'ambito regionale della sanità Ieri a Pescara gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un appartamento Dove era stata segnata una festa privata con numerosi presenti e musica ad alto volume Gli agenti arrivati all'indirizzo della segnalazione hanno individuato l'appartamento Dal quale si sentiva chiaramente provenire la musica ed il vociare delle persone I poliziotti hanno notato altresì che su di un balcone di un appartamento del primo piano Si stava svolgendo una festa e che tutti i partecipanti erano privi dei dispositivi di protezione individuale I poliziotti una volta all'interno hanno accertato la presenza di 22 persone che stavano festeggiando un compleanno Tutti i presenti, residenti tra Pescara, Chiedi e Montesilvano, sono stati identificati ed allontanati immediatamente E per loro scatteranno le sanzioni per essersi riuniti nonostante il divieto di assembramento E per il mancato utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale per i residenti in altri comuni Per l'inottemperanza al divieto di spostamento Cambiamo argomento con la politica Il trasferimento delle conoscenze destinate a scuola Questo secondo il senatore Luciano D'Alfonso La priorità principale per la regione Abruzzo in vista del recovery plan Senatore D'Alfonso, lei in conferenza stampa ha parlato di una questione Che sicuramente sarà non ripetibile In futuro bisogna accelerare per innovare anche la regione Abruzzo grazie al recovery plan Sono risorse irripetibili come ho spiegato Per quantità e qualità E anche per il livello elevato della sfida Noi abbiamo circa 3 miliardi di euro disponibili per i recovery E un miliardo per quanto riguarda la programmazione settennale nei rapporti Abruzzo-Italia-Europa Su questi 4 miliardi di euro vanno fatte scelte prioritarie Noi abbiamo messo a segno con un lavoro fatto di anni La cura del ferro nella Pescara Roma La cosiddetta ferroviarizzazione Pescara Roma Sono stati messi in sicurezza le grandi infrastrutture autostradali Grazie alla concentrazione di risorse e di procedure Partiranno presto i cantieri Accanto al trasferimento delle merci e delle persone C'è l'altra grande priorità Il trasferimento delle conoscenze Destinate alle scuole, alle università E alla salute, per la salute Noi dobbiamo determinare il cablaggio di scuole, università e strutture ospedaliere Per fare in modo che non ci sia più interruzione Nell'offerta scolastica, formativa, educativa, universitaria E neanche nella possibile offerta di salute riferita per esempio alla telemedicina Tutto questo può essere se ci sono queste infrastrutture capaci di connettere Noi abbiamo la digitalizzazione dei suoli Ma le strutture dove si erogano servizi a domanda individuale e collettiva Sono povere tecnologicamente Un miliardo di euro Il 30% di tutte le risorse devono assumere come bersaglio il cablaggio Il trasferimento di tecnologia Anche degli edifici Anche dell'edificato verticale che ospita le comunità O in formazione O in educazione O in attività universitaria O in attività destinata alla cura E su questo lei ha stimolato anche l'attuale governo regionale Ma io ho detto attraverso queste mie parole Documenti che metterò in cammino Mettiamoci insieme per riordinare L'atteggiamento che si deve tenere Nei confronti delle risorse del recovery Non 163 priorità che significa nessuna priorità Ma una, due, tre priorità basta, non oltre Il calcio di Serie B alla vigilia del match di domani Col Chievo alle 15 Sono giunti i risultati del giro di tamponi Fatto ieri sera in Casa Pescara Ci sono altri due casi di positività Riscontrati nel gruppo squadra Biancazzurro Che si aggiungono a quello comunicato già ieri Tre dunque i casi totali Questa sera nuovo giro di test molecolari I cui risultati si sapranno domani mattina Intanto sempre stamani la squadra ha sostenuto Al Vestina la seduta di rifinitura Il servizio è di Andrea Costantini Il Pescara inizia il girone di ritorno Con la trasferta di Verona A turbare la vigilia del delfino Le positività riscontrate nel gruppo squadra Dopo quella comunicata dalla società ieri Nel primo pomeriggio di oggi È arrivata l'ufficialità di altri due casi di coronavirus Sul giro di tamponi Eseguito ieri sera Questa sera la squadra Che nel frattempo è entrata nella cosiddetta bolla Farà un'altra tornata di tamponi I risultati si sapranno domani mattina E allora l'allenatore Roberto Breda Saprà su chi potrà contare Per il match del Bentegodi Nel frattempo però il tecnico Biancazzurro Invita i suoi giocatori A stare concentrati verso il match con il Chievo Perché la classifica richiede una svolta Nelle prestazioni e nei risultati Le ultime due partite anche se sono parite completamente diverse Non ci hanno dato niente E quindi bisogna trovare soluzioni E anche farli in fretta I ragazzi che sono arrivati nuovi Ti danno delle alternative Sia dal punto di vista delle caratteristiche Sia dal punto di vista tattiche E quindi dobbiamo essere bravi A dare una svolta a queste due ultime partite Perché fino a due settimane fa sembrava tutto perfetto Invece adesso come sempre in B Discontrato non c'è niente E ogni partita devi mettere dentro Quel tipo di intensità mentale e fisica Che ti permette appunto di riproporre Magari quel tipo di prestazione Che hai fatto in altre occasioni Noi soprattutto a Sanitana Invece abbiamo giocato quasi senza pensare Cioè siamo andati così E invece bisogna sempre essere Con una grandissima intensità mentale In tutto quello che si fa Il tecnico bianca-azzurro fa il punto Sulle condizioni dell'ex Seter Di Asensio e del neo arrivato Rigoni Anche lui ex della partita Asensio si è allenato tutta la terza settimana Con la squadra Quindi sta crescendo nella condizione Seter l'abbiamo recuperato a fine settimana Però le partite migliori le ha fatte Quando non si è mai allenato Quindi forse questa è una cosa positiva Da certi punti di vista Rigoni è arrivato con tanto entusiasmo E' un giocatore che conosce bene il ruolo E secondo me può darci a mano Per quanto tempo non è facile Perché è logico che poi il campo E' diverso Nel senso che non è diverso Ti dà le risposte vere Adesso certamente c'è tanto entusiasmo Da parte del ragazzo C'è anche tanto entusiasmo Da parte di Seter che è un ex Però insomma bisogna sempre poi valutare Quello che dice il campo Probabile che il Pescara parta con il nuovo modulo Su cui Breda ha continuato a lavorare in settimana Il 4-3-1-2 E varato in corsa nella gara della Rechi Quando la squadra era già sotto di due gol Sulle scelte di formazione Difficile al momento a bozzare un 11 Con la variante Covid Tuttavia l'uso del nuovo modulo Dovrebbe consentire al Pescara Di migliorare la produzione offensiva Il discorso del gol E' vero che nell'ultimo periodo Stiamo creando poco Secondo me non è che concediamo neanche tantissimo Perché se tu guardi sia a partire che ha perso a Cremona Ma sia a stessa Salernitana Dopo secondo ho fatto due tiri Due gol Perché poi non è che gli è concesso tanto Però al di là di questo Dobbiamo migliorare la nostra capacità Di creare occasioni E di completizzarle E su questo Credo che l'innesto anche dei nuovi Ti possa dare anche delle alternative Tattiche Che improntate appunto anche a creare Più pericolosità durante la partita Una squadra deve avere tante alternative E tra le varie alternative Certamente ci sono anche i gol dei centrocampisti E noi dobbiamo su questo Essere bravi a innescar meglio gli attaccanti Però anche appunto a creare qualche tiro in più Stiamo tirando Però secondo me stiamo tirando un po' troppo a volte Anche da lontano Invece dobbiamo arrivare a tirare Con più In zone anche sui campisti Nel Chievo mancheranno Giglio T E probabilmente Obi e Giorgevic In difesa toccherà a regione L'ex palmiero dirigerà il centrocampo Davanti la coppia Margiotta De Luca Sulle corsie esterne Ciciretti contendono a maglia A uno tra Canotto e Garitano Andiamo a fare la nostra partita Sapendo che abbiamo una squadra Troviamo davanti una squadra Che ha delle sicurezze Che ha una certa anche identità Però abbiamo fatto risultato tante volte Anche con squadre che avevano appunto Queste sicurezze Queste identità Quindi non vuol dire niente Dipende sempre Si parte sempre da 0-0 Poi da là si deve fare la partita giusta Direzione di gara Ad Alberto Santoro di Messina Debuttante Can Ha una direzione con entrambe le squadre Pescara Cittadella 3-1 E Pisachievo 2-2 Partite di questa stagione Serie C Molise una sfida playoff Dal grande fascino Seppur le due squadre sono separate Da 12 punti in classifica Ovviamente a favore del Bari Che è secondo in graduatoria Il Teramo è invece a sesto E cerca la vittoria Che manca da nove partite Velocemente le formazioni Con il Teramo che conferma il 4-3-3 Con Lewandowski in porta L'esordio di Vittorini in difesa Soprano, Piacentini e Tentardini A completare la retroguardia Poi Santoro, Arregoni e Mungo A centrocampo con Bombaggi, Pinsauti e Costa Ferreira Quello il Teramo sceglie di non fare minutaggio Per questa gara Perché gli unici under Che avrebbero contribuito Solo Piacentini e Santoro In panchina con Massimo Paci Vanno Valentini, De Giglio, Trasciani, K Romanucci, Di Francesco, Ilari In odore di partenza in direzione Tristina Va ancora una volta in panchina Lombardi e Gerbi Risponde il Bari con il 3-4-3 Con Frattali in porta Ciofani, Sabbione, Di Cesare in difesa Semensato, Derisio, Lollo e Rolando A centrocampo Marras, Antenucci e Candellone A comporre il tridente d'attacco In panchina ci sono invece Con Gaetano, Auteri, Marfella, Fiori, Celliento Perrotta, Bianco, Maita, Citro, Sarsi, Puttini e Minelli Dirige l'incontro il signor Gualtieri di Asti Ma è interessante anche un po' la situazione in tribuna Perché in tribuna va Pietro Cianci In prestito dal Teramo Nei primi sei mesi al Potenza È passato dei giorni scorsi proprio al Bari Però quest'oggi non va neanche in panchina Vanno invece in tribuna Oltre all'Asic, Minelli, Berligea e Di Matteo Oltre all'isqualificato Viero Nel Teramo anche Diachite Al centro di una vicenda di mercato Delle ultime ore Con il Bari interessato Perché Diachite potrebbe approdare proprio al Bari Prima della chiusura delle trattative Via Napoli Che ne rileverebbe il cartellino Non c'è però accordo tra Teramo e Napoli Al momento sulla cessione appunto Del giocatore a livello economico Vediamo come evolveranno poi le prossime ore Prima della chiusura delle trattative Non ci sono nel Bari neanche Andrioni e Dursi A breve, tra poco più di mezz'ora Il fischio all'inizio di Teramo-Bari Per adesso è tutto a voi Grazie Ania Cantagalli Ovviamente il resoconto della partita Nella prossima edizione del TG6 Ma ora andiamo avanti Perché domani si giocherà la quattordicesima Giornata di Serie D Due rinvii previsti Ma le cinque abruzzesi saranno tutte in campo Non ci sono derby La presentazione del turno nel servizio Tutte in campo le cinque abruzzesi di Serie D In una giornata, la quattordicesima Nella quale sono due rinvii Rieti-Montegiorgio e Re Canatese-Matese Proprio Montegiorgio e Matese Dovrebbero tornare in campo il 7 febbraio In occasione della sedicesima giornata E i rispettivi match del turno infrasettimanale Di mercoledì prossimo Contro Fiuggi e Giulianova Saranno rinviati Per Montegiorgio-Fiuggi c'è già l'ufficialità L'unica squadra scesa finora regolarmente in campo È il Castelnuovo E accadrà anche domani a Tolentino Perché la squadra di Mosconi Ai box da due giornate per un paio di casi covid Tornerà a giocare Negativi i tamponi effettuati ieri dalla squadra Cremisi La squadra di Di Fabio invece In trasferta spesso rende al meglio Vuole difendere il primato dall'assalto del campo basso Che ha due partite in meno E gioca sul campo dell'ultima della classe Castelnuovo privo di Gentile E dello sconificato Sbarbati Dovrebbe dunque puntare ancora su fagioli centramanti Sostenuto da Di Ruocco, Emili e De Giglio Ma anche su una condizione atletica e un ritmo partita superiori rispetto al Tolentino Medita riscatto il notaresco Dopo il mezzo passo falso nel recupero con la Vastese L'impegno però è molto ostico Trasferta al Ditella di Vasto Girardi Freddo e altitudine, 1200 metri Saranno due ostacoli in più Non bastasse la qualità della squadra molisana Tra le rivelazioni di questo campionato E nelle cui fila Medita il capo cannoniere del girone, Mercai Fondamentale per il tecnico Epifani il recupero di Marchioni La cui assenza si è sentita in settimana Rosso-Blu che sperano di lasciarsi alle spalle Le polemiche sugli arbitraggi Ritenuti penalizzanti nelle ultime due partite E vogliosi di restare nella scia delle prime della classe Dopo la giornata di stop forzato Torna in campo il Pineto Bisognoso di una vittoria contro l'Apriglia In settimana nuovo innesto per il tecnico Amaolo Che ha accolto in rosa il terzino sinistro Classe 2000 Leonardo Mastrippolito 41 presenze tra i pro con Bisceglie e Regina L'allenatore pinetese presenta il match E parla della fase della stagione Direi una partita importantissima Perché poi viene dopo un periodo di inattività Dove magari le altre squadre hanno giocato Quindi noi dobbiamo ritornare il clima al campionato Dopo la buona prestazione con il FIUG Dove secondo me è mancata soltanto la vittoria E dobbiamo Ci stiamo preparando al meglio Per affrontare questa sfida importante con l'Apriglia Anche perché in una settimana abbiamo tre partite importanti Quindi siamo in un momento secondo me cruciale del campionato Dove per rientrare in corsa Bisogna fare dei risultati importanti Ma io dico sempre che i risultati sono figli delle prestazioni importanti Quindi dobbiamo migliorare la prestazione Magari si esse più incessivi gli ultimi 20 metri E poi raggiungere l'obiettivo Ci siamo prefissati A Genzano la vastese proverà a prolungare il buon momento Contro una cinzia al balonga scottata dal K.O. Nel recupero col campo basso La squadra di Adderio è reduce della vittoria Col vasto Girardi e il pari di Notaresco Mentre la società prosegue l'opera di restyling della Rosa Che al momento sta dando dei frutti Così negli ultimi due giorni sono stati annunciati L'attaccante Leonardo Franzese Il difensore centrale ex Teramo Filippo Capitanio Ed un altro portiere Il classe 2001 Simone Equestre Tra i laziali ha otto lo squalificato di Cairano Contro il Castelfidardo il Giunanova ha la necessità Di sfatare il Tabufadini E per farlo si affida al neotecnico Bitetto Già capace di far strappare i suoi un punto a campo basso Non ci sarà Campagnacci Chiare è scisso ed è andato via Assenti sicuri Mariani, De Moleon, Ranellucci E molto probabilmente Ferrini e Barlafante Insomma è emergenza difesa Con Danna nuovamente riadattato nelle retrovie Mentre le responsabilità dell'attacco Ricadranno su Padovani Selin e De Cercchio Tra i marchigiani ha otto lo squalificato Giambè Questa era l'ultima notizia Tutti quanti i servizi sono sulla piattaforma Youtube Sul sito tv6.it Prossimo aggiornamento con l'informazione Questa sera alle ore 19 Grazie e un buon pomeriggio Grazie e un buon pomeriggio Grazie e un buon pomeriggio